La Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Venezia, ha lanciato l'operazione complessa SpinNacker per la tutela della filiera della pesca, intensificando i controlli in mare e a terra per contrastare le attività illegali. Quest'operazione si concentra sui periodi di maggior domanda di prodotti ittici, in vista quindi delle festività natalizie. L'operazione è stata divisa in tre fasi e ha lo scopo di prevenire comportamenti illegali che compromettono i prodotti ittici italiani. Finora sono stati eseguiti oltre 10.000 controlli a livello nazionale, portando al sequestro di 211 attrezzi da pesca, a sanzioni pecuniarie superiori a un milione di euro e al sequestro di 218 tonnellate di prodotto ittico. A livello regionale, nella Direzione Marittima di Venezia, sono state effettuate 63 ispezioni con 43 sanzioni amministrative per un totale di 104.000 euro, oltre al sequestro di più di 7 tonnellate di prodotto ittico, a una comunicazione di notizia di reato. La mancata o incompleta tracciabilità del prodotto è uno tra gli illeciti più frequenti. Solo alla farmacia San Giovanni, a Borgo San Giovanni, potrai entrare in una speciale comfort zone, la cabina per la tua bellezza. Ti potrai rilassare e prenderti del tempo per te, accudita da Alessandra, che userà per te le creme più adatte per darti energia, vigore, relax. L'idea regalo di questo Natale è una seduta in cabina beauty, una coccola per la persona che ami e a cui tieni, solo alla farmacia San Giovanni, a Borgo San Giovanni, aperta tutte le domeniche mattina.